A 100 metri dal santuario della Quercia, Sunglass, pizzeria, cucineria. Maxi schermo per le tue partite. Recette. Due postazioni. Panini. Secondi. Pizze. Tre sale. Magia. Ambiente. Anche per un dopocena. E voi, perché venite al Sunglass? Per vedere mille accendini. Sunglass. Pub, pizzeria, cucineria alla Quercia di Terbo. Per vedere mille accendini. 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 Grazie a tutti.